Buongiorno ragazzi, in questo quesito del 2021 di Oxford dobbiamo vedere quanto misura l'area di un dodecaedro regolare iscritto in una circonferenza di raggio unitario. L'area sarà 6 più 3 radice di 3, 2 per radice di 2, 3 per radice di 2, 3 radice di 3 oppure 3. Vediamo insieme la nostra proposta di soluzione. Rappresentiamo qui la nostra circonferenza e il dodecaedro iscritto nella circonferenza e l'abbiamo diviso in 12 spicchi, il raggio unitario. I passaggi quindi per calcolare l'area di tutto il dodecaedro sarà quella di considerare il triangolino, la dodicesima parte della nostra figura, calcolare l'area di quella parte e moltiplicare ovviamente poi per 12 per avere l'area totale. Quindi i passaggi sono divido dodecaedro in 12 spicchi, calcolo che l'area totale è 12 volte per l'area del nostro spicchio giallo, terzo passaggio calcolo, per poter calcolare poi l'area di quello spicchio che abbiamo chiamato A1, l'angolo θ come 360 gradi diviso 12, cioè 30 gradi. Andiamo quindi a calcolare l'area A1 che è l'area del triangolo OAB che è data dal teorema dell'area che ci dice che in un triangolo qualunque l'area è data da un mezzo per il prodotto della lunghezza dei due lati, in questo caso A e OB, per il seno dell'angolo θ che è l'angolo compreso tra di loro. Quindi abbiamo che A1 è uguale a un mezzo per uno per uno per il seno di 30 gradi, questo ci dà un mezzo per un mezzo e quindi otteniamo un quarto. A questo punto abbiamo A1, dobbiamo calcolare l'area dell'intera figura, quindi l'area di tutto il dodecaedro non è altro che 12 per un quarto che fa 3. Questa era tra le nostre risposte, possiamo quindi dire che la risposta esatta per il nostro quesito è la E. Spero che sia tutto chiaro altrimenti iscrivetemi, ci vediamo domani con il prossimo quesito. Buona serata!